Pronto vigile del fuoco? Sì, è crollato tutto, vi prego, sappiamo... Stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo... ...eve solo speranza, perché lo so che è passato tanto tempo, che siete delusi, rassegnati, amareggiati, però abbiamo lavorato per cambiare lo scenario. Oggi era la nostra giornata, dobbiamo rimanere soli per rispettare il nostro dolore. Noi vogliamo con credenza, siamo stanti delle promesse, siamo stanti. Dobbiamo anche ringraziare il Presidente che ha ascoltato le proposte dei comuni del Cratero, 138 comuni. Io ho lasciato la mia terra allo strato. Potrai tornare, potrai tornare. Non posso tornare, perché ho perso mio marito qua. Lo so, lo so, lo so. E siamo stati, come tante persone che si è vicine a noi. Io voglio risposte dal Presidente. Voglio parlare con il Presidente a tutti e tutti, anche a casa mia, a tutte le tavole, una piccola casa. Io ho 42 ore. Ok? E' un po' di rispettare. No, no. Ciao. Ciao.